Il bonus casalinghe 2022 è un'opportunità formativa poco conosciuta dai cremonesi che talvolta lo confondono con l'assegno sociale. Non si tratta infatti di un contributo in denaro, bensì della possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di formazione, finanziati dal Ministero delle Pare Opportunità. I destinatari sono tutti coloro che svolgono attività in ambito domestico e vorrebbero reinserirsi nel mondo del lavoro acquisendo nuove competenze. È un percorso formativo dedicato tramite il decreto legislativo 104 del 2020 dal Ministero delle Pare Opportunità per tutta quella fetta di casalinghe e anche casalinghi che vogliono reinventarsi, ributtarsi diciamo in un percorso formativo per potersi reinserire nel mondo lavorativo. È strutturato in sette moduli, ogni modulo avrà una tempistica di tre ore, quattro ore e tutto il percorso può essere seguito tramite webinar. Ci sarà comunque un test finale al quale la casalinga o il casalingo diciamo sarà sottoposto. E a breve, sempre sul sito del Ministero delle Pare Opportunità, ci sarà la possibilità di scegliere l'ente formatore e fare l'iscrizione direttamente sul sito. Molti cittadini cremonesi non sono al corrente di questa possibilità riservata ai casalinghi e alle casalinghe. No, io lavoro ma però non sapevo quella cosa qua. No, questo non lo sapevo, che era proprio per fare corsi di formazione. In realtà, se ci si pensa, fare la casalinga è un lavoro vero e proprio e molto impegnativo. E poi è giusto che abbiano comunque una formazione in merito. Non è così semplice, si sottovaluta spesso il lavoro domestico. L'ho visto pochi giorni fa su internet. Indubbiamente il bonus è visto con favore da chi non lavora. Ma c'è chi teme che la scarsa conoscenza di questa opportunità formativa sia dovuta all'atteggiamento passivo di coloro che preferiscono ricevere il reddito di cittadinanza. I ragazzi stanno a casa, prendono questo reddito e non vogliono più lavorare. Grazie. Grazie.